Salve a tutti ragazzi bentornati alex54 oggi siamo qui perché volevo dirvi tutti i miei gadget che ho su alberto nasca ovviamente ne ho fatto anche un video però ve ne parlerò e alberto nasca è uno youtuber con 400 anzi no attenzione colpo di scena aspettate alexa chi è alberto nasca alberto nasca è uno youtuber con 454 mila iscritti da quando ha creato il suo canale il 24 aprile 2011 ha ricevuto 98 milioni 70 mila 725 visualizzazioni ha detto tutto allora vi dirò il mega gadget che su di lui ovviamente ne sono parecchi cover con l'autografo autografato da lui all'enigma 2019 autografo diverso da quello questo l'ho fatto solo col cognome perché il nome non entrava allora non volevo buttare la cover allora ho detto in caso scemare fammi solo il cognome che va bene il cognome ma il suo vero nome è alberto fontana non alberto nasca ovviamente qui altro autografo sulla foto e poi il pezzo forte che è uscito nel 2020 ora è uscito a febbraio il proprio libro andatelo a comprare costa intorno ai 15 euro su su mondadori su amazon vi consiglio di prendere su amazon che di solito lì è sempre molto scontato di più dei degli altri siti ovviamente si chiama fino all'ultima curva parla della sua vita che ho già conosco a memoria perché lo amo lo stimo molto e quindi questi sono i miei gadget che ho su di lui ditemi se volete anche qualche altro video sui gadget che ho degli altri youtuber e quindi il video finisce qui mi raccomando iscrivetevi al canale mettete la campanellina appena per il nostro video il video finisce qui ciao ciao ciao